Nemmeno il tempo di far terminare la finale di Coppa Italia, che è già a tempo di Serie A. Con la lotta salvezza e la qualificazione in Champions League che diventano fondamentali a due turni dal termine. Di seguito le probabili formazioni della 37esima giornata Serie A, di Sport Italia. It.Probabili formazioni Sassuolo Cagliari. Domenica 12,30. Sassuolo, 4-2-3-1, Consigli, Toliam, Erlich, Ferrari, Doig, Lipani, Mateus Enrique, Bairami, Torstuvedz, Lauriente, Pinamonti. Cagliari, 4-3-2-1, Scuffet, Zappa, Mina, Dossena, Augello, Nandes, Deola, Sulemana, Luvumbo, Gaetano, Shomurodov. Probabili formazioni Monza-Frosinone, Domenica 15,00. Monza, 4-2-3-1, Di Gregorio, Birindelli, Izzo, Caldirola, Chiracopulos, Gagliardini, Bondo, Colpani, Pessina, Zerbin, Diurige. Frosinone, 3-4-3, Cerofolini, Lirola, Ocoli, Monterisi, Zortea, Varrenechea, Brescianini, Valeri, Sule, Chedira, Gelli. Probabili formazioni Udinese-Empoli, Domenica 15,00. Udinese, 3-5-2, Ocoye, Perez, Biol, Christensen, Ebosele, Samartic, Wallassi, Paiero, Camara, Pereira, Lucca. Empoli, 3-5-2, Caprile, Beresinski, Ismaili, Luperto, Giasi, Fazzini, Grassi, Malea, Pezzella, Cambiaghi, Niang. Probabili formazioni Inter-Lazio, Domenica ore 18,00. Inter, 3-5-2, Sommer, Pavar, De Vrij, Bastoni, Darmian, Barella, Ciannolo, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Lautaro, Turam. Lazio, 3-4-2-1, Mandas, Patrick, Casale, Isai, Marushic, Kamada, Gendusi, Zaccagni, Felipe Anderson, Luis Alberto, Castellanos. Probabili formazioni Roma-Genoa, Domenica 20,45. Roma, 3-4-2-1, Svilar, Christensen, Mancini, Ndicà, El-Sharawi, Cristante, Paredes, Angelino, Baldanzi, Pellegrini, Lucca Q. Genoa, 3-5-2, Martinez, Vogliacco, De Winter, Vasquez, Sabelli, Torsby, Badel, Frendrop, Martin, Gudmundson, Rettegui. Probabili formazioni Salernitana-Verona, lunedì 18,30. Salernitana, 3-4-2-1, Costil, Pierozzi, Fazio, Pirola, Zanoli, Culiballi, Besic, Sambia, Tceauna, Vignato, Iquemesi. Verona, 4-2-3-1, Montipò, Tciaccia, Davidovic, Magnani, Cabel, Duda, Serdar, Nozlen, Foloruncio, Lasovic, Wieschi. Probabili formazioni Bologna-Juventus, lunedì ore 20,45. Bologna, 4-2-3-1, Skorupski, Posh, Lukumi, Calafiori, Kristiansen, Evischer, Freuler, Orsolini, Elazouzzi, Doie, Odgard. Juventus, 3-5-2, Scesni, Gatti, Bremer, Danilo, Cambiaso, Mecheni, Locatelli, Rabiot, Kostic, Chiesa, Vlahovic.